Le case a 1 euro sono una realtà. È stato appena pubblicato il provvedimento di aggiudicazione del primo bando delle case a 1 euro che ci ha visti impegnati nelle scorse settimane e che soprattutto ha fatto conoscere la nostra città al di fuori anche dei confini nazionali. Il secondo bando è già pronto e prevederà l'insedimento di circa 10 lotti composti da circa 25 unità immobiliari. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto perché Taranto è stata conosciuta anche all'estero, è stata conosciuta in tante altre realtà e alcuni tra gli aggiudicatari provengono non da Taranto ma si sono avvalsi di professionisti tarantini, il che ci rende davvero orgogliosi. Il nuovo bando, come il primo, serve a trasformare pietre di scarto in pietre angolari. Che cosa vuol dire? Che la nostra città becchia può veramente rivivere con queste nuove realtà abitative, nuove realtà socio-economiche che nascono all'interno di quella che per noi è davvero una perla del Mediterraneo.